e chi guida? Luca, devi andare a fare! Prendi! Larga! Fai! Fai tirare! 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 Fai! Dai qua che frustata se che puoi! Erbati! 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 Raccogli! Tira su l'erba! Erbati! Tira su l'erba! Erbati! 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 Stai ad arrivare! Stai ad arrivare! Stai ad arrivare! Erbati! Sopra di là! Ma non è la scritta! Ma non è la scritta! No! Non è la scritta! Ripartire! Come ripartire? Nooo! Ahaha! Ma sei dietro! No! La scritta! Quattro ore da ricarica! Mianchia! e te che deve fare? tu puoi alzarmi tu puoi alzarmi è che sei invalido qua ma scopri se vi sei ombro non posso ingaggiarmi e soprattutto in mezzo non vado a vedere questo è lavoro i ripieni non preoccuparmi lei la puoi l'acerti veramente mi piace ben amici e avevamo paura che vi fossi scorcaste il vestito ma sai che stai proprio bene metti il grembiulino Anto Luca guarda qui dietro la voglio provare giro la visita di casa mia certo io non ne pago 3,2,3 perché c'è una melanzana non la